E rieccoci qua cari amici, bentornati in questa nuovissima puntata di Mike and Beer. Oggi parleremo dell'acqua, dell'acqua nella produzione di birra, come sceglierla e di tante altre cose. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di schiacciare sulla campanellina per non perdervi in alcun nostro video e mi raccomando seguiteci anche sui social Facebook e Instagram. Iniziamo a parlare subito dell'argomento di oggi, ovvero dell'acqua. L'acqua rappresenta tra il 90 e il 93% della nostra birra, del nostro prodotto finale. Quindi capirete che ha un ruolo veramente importantissimo. Ma così come c'è orzo e orzo, quindi malto e malto, c'è anche acqua e acqua. L'acqua che si utilizza per produrre birra è un'acqua particolare. Tanto è ricca di sali minerali, di sostanze organiche e di microorganismi, come batteri e lieviti. In più, tutte le grandi birre non sono mai state prodotte con l'acqua di grandi fiumi o grandi laghi, ma bensì con piccole sorgenti o dei veri e propri ruscelli, che spesso e volentieri si trovano in zone molto isolate, che il mastro birraio ha scoperto e che custodisce gelosamente per far sì che appunto non vengono inquinati da agenti esterni. In più, se prendiamo due birre che vengono prodotte in zone vicine, ma da sorgenti diverse, ci accorgeremo e sentiremo che il gusto cambia completamente. E quindi c'è anche una vera e propria geografia della birra, che oltre a valorizzarne gli stili e a valorizzarne per quanto riguarda la produzione, ne valorizza anche il livello commerciale, o comunque il prezzo a livello commerciale. Perché se ci pensate bene, noi avremmo che quella determinata birra viene prodotta in quel determinato luogo con quell'acqua che è proprio quella originale. Quindi quella marca che rappresenta quello stile, diciamo che ha un vantaggio anche a livello commerciale. Quindi come avrete intuito, l'acqua distillata per produrre birra è sconsigliatissima, anzi non dovrebbe essere proprio usata, perché manca di tutte quelle sostanze come sali minerali, sostanze organiche e microorganismi, come abbiamo già detto, che vanno a caratterizzare le singole birre. Ma ora passiamo a un lato un po' più tecnico per quanto riguarda l'acqua nella birra. Infatti in base ai sali minerali che troviamo nell'acqua di produzione, il gusto della nostra birra cambierà. E inoltre cambierà anche il pH, che dovremo correggerlo o comunque portarlo ad un livello ottimale per far sì che il gusto sia quello desiderato. Quindi le due cose principali sono capire di quanta acqua abbiamo bisogno per produrre la nostra birra e sapere come regolare il pH della nostra birra. Partiamo dalla prima. Quanta acqua è necessaria? La quantità necessaria per la nostra produzione di birra dipende da 5 fattori principali. Il primo è che se noi abbiamo bisogno di produrre 20 litri di birra, abbiamo bisogno di 20 litri d'acqua. Il secondo è che l'acqua assorbita dai grani non possiamo recuperarla e quindi dobbiamo trovare il modo per scoprire quanta acqua abbiamo perso con l'assorbimento dei grani. Questa quantità di acqua però è prevedibile perché alla fine del nostro ammostamento il peso dei malti, dei grani bagnati, è composto dal 20% dai chicchi d'orzo e dall'80% da acqua. Quindi insomma in base al peso totale che abbiamo è facile, basta fare un conto e sappiamo quanta acqua abbiamo perso. Però il peso dei grani post ammostamento, quindi dopo che li abbiamo messi in infusione nella nostra acqua il peso cambia perché perdono le proteine, gli zuccheri e alcune parti che rimangono nel nostro mosto. Quindi il peso finale dei grani senza acqua ovviamente sarà circa il 40%. Quindi se noi abbiamo inserito nella nostra produzione, nella nostra acqua calda 10 kg di malti alla fine questi malti ne peseranno 4. Ed essendo l'acqua l'80% del totale, avremo che il peso dell'acqua sarà 4 volte questi 4 kg. Quindi 4 per 4 kg sarà 16 kg. E dato che un litro d'acqua equivale circa a un chilo, avremo perso 16 litri di acqua. Quindi anche questo passaggio molto semplice. In generale però c'è una formula che ci permette di calcolare ancora più velocemente il peso dell'acqua che abbiamo perso. Questa formula è peso dei grani per 1,8. Così otterremo i litri d'acqua persi durante l'ammostamento assorbiti dai chicchi d'orzo. Il secondo fattore che determina perdita d'acqua è l'evaporazione durante la fase di ebollizione. Ovviamente in questa fase non ci si può fare niente. L'acqua dovendola riscaldare e portarla ad ebollizione evapora. E l'evaporazione cambia tantissimo da moltissimi fattori. In generale si tiene conto di una percentuale oraria che rappresenta quanto volume d'acqua abbiamo perso, che si aggira intorno al 5% all'ora. Il terzo fattore che ci fa perdere acqua sono le nostre attrezzature. Quando noi travasiamo il mosto, l'acqua eccetera da contenitore a contenitore o comunque facendola passare nei tubi, avremo delle perdite di acqua nella nostra produzione. Anche se in verità spesso nelle produzioni casalinghe questa perdita è quasi pari a zero perché in genere abbiamo delle pentole classiche molto grosse e una volta aver finito di bollire il nostro mosto e averlo fatto raffreddare lo travasiamo direttamente nel nostro fermentatore spesso senza passare da tubi. Quindi la perdita è praticamente zero. Mentre se abbiamo delle attrezzature un po' più particolari, un po' più professionali quindi abbiamo delle pentole con un doppio fondo filtrante, dei mesher o comunque utilizziamo dei tubi, avremo delle perdite di volume e di acqua. E per scoprire quanta acqua abbiamo perso, beh, sarà compito nostro verificare quanta acqua, quanto mosto negli spazi morti è rimasto all'interno dei nostri contenitori. Spesso un altro fattore da tenere conto è quello del beccuccio del nostro fermentatore perché se è troppo alto rispetto al fondo del fermentatore ovviamente perderemo più o meno litri quindi anche lì perderemo volume. L'ultimo fattore è la contrazione del mosto perché quando noi lo andiamo a raffreddare avremo una diminuzione del volume pari al 4% del nostro mosto e quindi dovremo fare attenzione e aggiungere dell'acqua per raggiungere il livello ottimale. Ma facciamo un esempio pratico, semplice. Noi vogliamo produrre 20 litri di pale ale mettendo 4 kg di malto. Quindi l'acqua che dovremo preparare sarà 20 litri iniziali che saranno quelli che avremo alla fine della nostra produzione. Poi una volta però finita la fase di ebollizione e aver inserito all'interno del fermentatore il nostro mosto noteremo che questo volume è aumentato perché i grani hanno rilasciato proteine, zuccheri, particelle che hanno fatto aumentare il volume del nostro mosto e quindi abbiamo 22 litri. Bene, da questi 22 litri partiremo a fare i nostri calcoli. Quando si raffredda dovremo aggiungere un litro circa perché la contrazione, quindi il volume, è diminuito del 4% quindi avremo meno volume e dovremo aggiungere circa un litro al nostro mosto. Per l'evaporazione invece dovremo aggiungere circa 2 litri perché in 90 minuti la quantità d'acqua evaporata è l'8% perché io vi avevo detto che la percentuale era il 5% per ora quindi se facciamo una proporzione in 90 minuti avremo un 8% di evaporazione quindi dovremo aggiungere circa 2 litri d'acqua al nostro mosto. Da 22 litri quindi siamo passati a 25. Ora presupponiamo che le nostre attrezzature abbiano fatto sì che abbiamo perso 4 litri d'acqua quindi siamo a 29 litri d'acqua che dobbiamo preparare per produrre 20 litri puliti di pale ale. Però dobbiamo tenere conto anche della quantità d'acqua assorbita dai grani che saranno 7,2 litri. Questo perché noi abbiamo inserito 4 kg di malto nella fase di ammostamento moltiplicato per 1,8 che era la formula che vi avevo detto precedentemente quindi il peso dei grani per 1,8 ci dà il peso dell'acqua che dovremo aggiungere al nostro mosto. Quindi arriveremo a un totale di 36,2 litri che sarà la quantità di acqua da preparare per produrre 20 litri di pale ale. Parliamo ora del pH della nostra birra. Secondo i chimici della birrificazione ci sono 3 sali tra ioni principali che vanno a modificare il pH del nostro mosto. Il primo è il bicarbonato quindi HCO3- e questo ione viene spesso definito come durezza temporanea o alcalinità. Gli altri due ioni invece sono il calcio Ca++ e il magnesio Mg++. Questi due ioni hanno l'effetto di abbassare il pH mentre il bicarbonato lo alza. Il nostro scopo è quello di raggiungere il pH ottimale per la produzione della birra che si aggira intorno ai 5,8 e ai 5,2. Se noi utilizziamo un'acqua confezionata di marca noi potremo sapere molto facilmente i dati di pH, quanti sali sono presenti eccetera. Se però noi usiamo una fonte d'acqua di cui non possiamo sapere la composizione chimica quindi magari l'acqua del rubinetto oppure da una sorgente perché abbiamo la possibilità di usare una sorgente nostra beh dovremo richiedere l'intervento di un laboratorio per far sì che ci possa dire la composizione chimica della nostra acqua così da poter sapere come correggere il pH durante la produzione. E per correggere il pH durante la produzione ci sono tre metodi principali. La prima è aggiungere grani speciali quindi dei grani che andranno ad aggiustare il pH però in questo caso dovremmo stare attenti perché dovremmo ricalcolare anche la quantità di malti base presenti nella produzione. La seconda invece è l'aggiunta di sali di calcio o di magnesio anche in questo caso dipende se noi vogliamo produrre con un determinato tipo di malto base in più per questo procedimento ci sono delle formule molto particolari anche molto complesse che non vi sto a spiegare perché sarebbe anche proprio molto molto complicato perché dovremmo parlare proprio della chimica dell'acqua. Il terzo invece è trattare l'acqua in totalmente altro modo o cambiamo fonte d'acqua o la diluiamo con acqua distillata oppure la facciamo bollire per fargli perdere un po' di quell'alcalinità che potrebbe avere. Se nessuno di questi tre metodi funziona beh allora lì dovremmo provare ad usare l'acido alimentare però bisogna stare molto attenti a usare l'acido alimentare perché una piccola aggiunta farà abbassare il nostro pH di tantissimo quindi bisogna stare molto attenti. Ma perché noi dobbiamo correggere il pH della nostra birra? L'acqua che i birrifici originali vanno ad utilizzare hanno una composizione chimica molto particolare e noi per ottenere quel determinato stile di birra e lo vogliamo insomma il più fedele possibile dobbiamo cercare di avere un'acqua il più simile possibile e il pH è un dato che influisce moltissimo anche sul gusto quindi ci basterà correggere il pH per ottenere una birra molto simile allo stile e al birrificio originale. Ovviamente se la nostra fonte d'acqua è sempre la stessa ci basterà fare tutti questi calcoli, tutte queste elaborazioni una sola volta per poi replicarla ogni volta che andremo a produrre quella birra. Quindi questa era in poche parole l'acqua all'interno della produzione birraria ci sono molte altre cose che potrebbero essere approfondite quindi voi fatemi sapere se volete un approfondimento sull'acqua commentando qua sotto. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube di schiacciare sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro video e mi raccomando lasciateci anche un bel mi piace. Seguiteci sui nostri canali social Facebook e Instagram. Noi ci risentiamo venerdì prossimo in una nuova puntata di Mike and Beer. Ciao a tutti!